Sono tantissime domande, grazie. Inizio dall'ultima. Sì, è vero, ho ricevuto nella prima volta attacchi personali, questa volta hanno coinvolto anche la mia compagna Olivia Palladino. Questo ovviamente dispiace in particolar modo. Iniziamo dall'ultimo episodio contestato. È stato detto che siamo stati a cena il 31 ottobre in un ristorante. Io e la mia compagna, quando il giorno prima, avevo adottato, avevo firmato un DPCM che chiudeva i ristoranti. Sarebbe gravamente scorretto poi da parte mia. Infatti non è vero. Falso e diffamatorio. L'ultima volta che sono stato in quel ristorante con la mia compagna è stato il 25 settembre o comunque a fine settembre. Poi c'è stato contestato un episodio a parte di un esponente di Fratelli d'Italia. È stato fatto un esposto in Procura della Repubblica contro di me per uso improprio della scorta. Anche qui coinvolta la mia compagna. Anche questo è completamente falso. Vorrei chiarire che la mia compagna non ha preso l'auto di scorta. Vorrei chiarire che io non ho mandato la scorta. Non sapevo nulla. Ho saputo di questo episodio al termine dell'intervento che c'è stato. Vorrei chiarire che la scorta non era lì per la mia compagna, era lì per me. Io ero a 20 metri. La scorta aspettava che scendessi ed ero in attesa che scendessi. Vorrei aggiungere che l'uomo della scorta che è intervenuto l'ha fatto perché davanti a questo supermercato ha visto con citazione trambusto perché il proprietario del supermercato non voleva far intervenire questa truppa televisiva che insistentemente voleva che la mia compagna rilasciasse le dichiarazioni che non volevano essere rilasciate.